Leonardo Gabrielli assessore ai lavori pubblici del comune di San Giustino finalmente partono i lavori di asfaltatura sono anche importanti le somme che andrete a investire no? Sì, sono 185 mila euro complessivi di somme che l'amministrazione comunale andrà a investire però farei un po' il punto della situazione, un po' di ordine anche per chiarire un po' la situazione e un po' per tutti dunque la Giunta ha già deliberato un mese fa il progetto esecutivo definitivo per 3 km di asfalto all'incirca sono 185 mila euro quindi ha già deciso dove intervenire secondo punto, l'11 di maggio sono partite le lettere d'invito per la gara di appalto che si svolgerà con la procedura negoziata e ci sono 6 le ditte che verranno invitate verrà adottata la tecnica del massimo ribasso, ovviamente terzo punto, il 29 maggio verranno aperte le buste, le offerte e da lì si decreterà la ditta aggiudicatrice dei lavori che può già iniziare dal 3 giugno questi sono i tempi inoltre per quello che riguarda le strade provinciali perché l'amministrazione comunale sta lavorando anche sta pressando anche sugli altri enti per le strade di loro competenza lunedì 22 maggio o martedì 23 maggio partiranno i lavori di riasfaltatura di via Citernese a San Giustino e c'è un pressing anche per riasfaltare i tratti malmessi della provinciale Celalba-Pitigliano Lei parlava di circa 3 chilometri di asfalti avete già individuato quali sono le arterie che andrete a sistemare? Sì, il piano è esecutivo nel senso che la scelta c'è già stata si prediligeranno le arterie maggiormente trafficate maggiormente abitate di maggior flusso del traffico ovviamente e cercando di evitare piccoli interventi qua e là ma interventi un pochino più risolutivi e tangibili Detto che quindi partiranno alcuni lavori di asfaltatura c'è anche un'altra situazione che fa un po' parlare è la situazione relativa al torrente di Silci so che non è di vostra competenza comunque è nel vostro territorio ci sarà un intervento? Così come il pressing sulla provincia di Perugia sta portando buoni frutti per quello che riguarda gli asfalti ugualmente l'amministrazione comunale farà pressing sui enti di competenza, sui enti competenti per i lavori di manutenzione e di disalberamento dei torrenti specialmente adesso che non piove speriamo e quindi come un po' parlare di sicurezza di Silci e quindi non piove speriamo di poter farlo